Musica Amici di TV Gargano, benvenuti al nuovo appuntamento di Verso il Voto, il rotocalco politico della Web TV del territorio che tutte le settimane vi propone sindaci, consiglieri, dal momento che l'8 e il 9 giugno si vota per le amministrative e anche per le europee in molti comuni della Capitanata. Quest'oggi ci è venuto a trovare l'onorevole Francesca Troiano che ovviamente ringraziamo. Grazie a voi per l'invito. Ci diamo del tutto fuori dal set quindi possiamo sicuramente farlo anche qui. Grazie Francesca. Allora intanto raccontaci del perché di questa candidatura. Generazione Viva è chiaramente espressione della tua edizione a Italia Viva a livello nazionale. Come è nata questa idea da parte tua di proporti? Voi che comunque pur lavorando a Roma l'occhio verso il territorio l'avete sempre, poi immagino che tu non ti sia mai persa di vista col territorio. È lì che trovate le radici questa scelta Francesca. Grazie mille Antonio, grazie mille dell'invito e saluto i telespettatori. Assolutamente l'occhio sul territorio non l'ho mai perso e chiaramente il lavoro a Roma durante l'esperienza parlamentare era impegnativo quindi tra il lavoro in Parlamento e il lavoro in Commissione il territorio in qualche modo mi ha visto meno presente. Proprio per questo ho immaginato la mia candidatura in questa competizione elettorale che è una candidatura in una coalizione civica che vede come espressione la candidatura del candidato Ugo Galli che appunto è un candidato civico e mi chiedevi io sono quindi vicepresidente di Italia Viva provinciale e sono anche in assemblea nazionale quindi comunque ricopro anche un ruolo nell'assemblea nazionale. L'attenzione per me al territorio era doverosa per me in qualche modo un parlamentare che ha avuto un'esperienza nazionale deve ridare qualcosa al territorio quindi per quello ripartire dal basso, ripartire dal consigliere comunale e immaginare addirittura tramite una coalizione civica e una lista civica come quella di Generazione Europa che assieme agli amici di azione abbiamo costruito un progetto liberal democratico di cui siamo veramente orgogliosi all'interno appunto come dicevamo di una coalizione civica. Abbiamo comunque coinvolto persone dal basso, persone che per la prima volta si sono impegnate per la loro città e fanno politica e con un'attenzione particolare alle donne perché Generazione Viva, nella mia persona in particolare ma sento di parlare a nome di tutti gli amici e i candidati della coalizione vuole dare un'attenzione alle donne perché le donne sono la qualità emergente. Io chiamo questo progetto da donna a donna e non è solo parlare alle donne ma con le donne perché assieme a loro possiamo immaginare le politiche civiche per la nostra città. io trovo assurdo, molto spesso ci troviamo a confrontarci con delle amiche e le domande che molto spesso mi hanno lasciato anche durante questa pre-campagna elettorale ecco perché se vogliamo noi abbiamo comunque presentato la lista sabato ma la nostra lista civica ha appunto una visione, proprio perché avevamo una visione e ci siamo già presentati come coalizione già da gennaio proprio perché avevamo le idee chiare e non siamo un cartello elettorale. Dicevo, tra donne ci siamo sempre chiesti ma è possibile che del nostro futuro e quando andiamo a parlare del working by balance e quindi tutta la facilitazione vita-lavoro ne deve parlare un uomo? è possibile che se parliamo di assilio nido ne deve parlare un uomo ma con tutto rispetto cosa sa un uomo delle scelte che facciamo e della rinuncia che facciamo con i nove mesi di maternità con le rinunce che in qualche modo facciamo nel contesto lavorativo che le facciamo volentieri nel contesto lavorativo e quindi mi sono chiesta è inevitabile che il progetto da donna a donna che abbiamo iniziato a lavorare in maniera animata già da settembre con gli amici di azione e per appunto in qualche modo iniziare a immaginare anche dei tè tematici dove si parlava di focus specifici e quindi si affrontavano queste tematiche e si immaginavano per esempio la tematica degli azili nido oppure la tematica del... che chiaramente sono tematiche che per le donne sono fondamentali perché allo stato attuale una donna al sud deve scegliere se seguire comunque la formazione, il lavoro oppure fare un figlio perché inevitabilmente o ha un partner che le dà una mano importante oppure deve scegliere Francesca, l'attività parlamentare, di solito si consiglia a chi comincia a dicere di fatti prima l'esperienza amministrativa poi magari cresci e ti proponi tu invece hai fatto il contrario, è arrivata subito dall'esperienza parlamentare quanto ti servirà questa esperienza per essere un buon consigliere comunale? Allora io dico che vedere i problemi dall'alto nella loro globalità ti permette poi di focalizzare nel dettaglio si parlava di esperienza dal particolare all'universale e dall'universale al particolare io ho iniziato dal universale al particolare per poi chiaramente passare dal particolare all'universale quindi credo che in questo senso mi dia un'ottima base di partenza perché la visione che ti dà comunque la politica nazionale il tipo di respiro che ti dà la politica nazionale e comunque io chiaramente appartengo ad una cultura politica liberal democratica questa applicata alle tematiche locali a tematiche che la nostra coalizione tiene comunque a cuore in qualche modo la competenza noi parliamo di fiducia, futuro, partecipazione cioè parliamo di riportare in qualche modo i giovani alla politica come in maniera molto molto pratica ad esempio strumenti di cittadinanza attiva la consulta dei giovani dare ai giovani degli strumenti pratici e concreti che in qualche modo li facciano oltre a immaginare degli svaghi ludico creativi che la comunità, la città se può rientrare in qualche modo si possono sentire più appartenenti alla città se contribuiscono e vedono con lo strumento appunto della consulta il loro effettivo contributo un altro per esempio strumento io che ritengo fondamentale è all'interno dell'URP quindi di questo punto di accesso al pubblico immaginare una figura di psicologo orientatore orientatore psicologo perché il lavoro è una tematica che... ricordiamo che la tua professione è quella di psicologo esattamente, sono psicologo e psicoterapeuta oltre che appunto orientatrice sono conosciuta come psicologa esattamente e quindi permette in qualche modo di individuare vocazioni individuare attitudini e in base a questo fare un bilancio delle competenze per questo che cosa ci permette? non è... lasciamo i giovani lasciamo chi in qualche modo deve prendere delle decisioni sul proprio futuro e quindi accascata in qualche modo sulla civitas perché se un giovane non è orientato è l'amministrazione la prima che ne risente quindi è compito è responsabilità dell'amministrazione una cosa di questo tipo e orientarlo significa dargli strumenti che gli permettono di individuare la sua vocazione e in qualche modo sviluppare le competenze migliori secondo le sue attitudini capacità competenze che gli permettono di entrare in questo mercato del lavoro che io ricordo non è il mercato del lavoro del modello fordista perché noi facciamo un errore fondamentale abbiamo in testa un modello novecentesco e ci approcciamo all'età dell'intelligenza artificiale con un modello novecentesco dove abbiamo comunque una serie inevitabilmente di lavori purtroppo anche intellettuali che inevitabilmente dovranno subire un processo di trasformazione e se noi non siamo all'avanguardia con questo processo di trasformazione ci travolgerà non possiamo fare nulla affinché l'intelligenza artificiale non prosegua perché veramente è l'innovazione dopo il computer è l'innovazione più importante dopo il computer quindi in qualche modo applicare e utilizzare queste competenze all'interno dell'amministrazione uno sportello con un per esempio uno stampo preciso sulle professioni STEM le professioni tecnico-scientifiche noi abbiamo un gap con i nostri cugini europei con le professioni STEM a parte di genere e quindi le donne sono meno degli uomini in queste discipline ma sono quelle discipline che permettono di aumentare il PIL perché sì il turismo investire sul turismo ma quello che veramente decreta lo sviluppo del PIL sono le professioni STEM immaginiamo che cosa significa laureati in biotecnologie immaginiamo che cosa significa laureati in ingegneria laureati in informatica che comunque sono chiaramente le professioni che come prima citavo l'intelligenza artificiale sono le professioni del futuro il consigliere Francesca Troiano barra assessore Francesca Troiano che contributo può dare al consiglio comunale del dottor Ugo Galli presidiato dal dottor Ugo Galli con gli strumenti che chiaramente il consiglio comunale mi mette a disposizione indubbiamente sono strumenti di controllo strumenti che permettono in qualche modo di permettere di monitorare il procedimento e la macchina amministrativa nel suo funzionamento in questo senso la mia esperienza come politico come parlamentare e io ho un'attenzione molto molto particolare chiaramente in virtù anche della mia formazione sulla salute mentale e quindi su tutta la parte legata alla prevenzione primaria io ho dimenticato prima Antonio di parlare di una tematica che a me per esempio è molto molto cara quando ero in commissione sanità ho dato il mio contributo tramite un emendamento a quello che adesso conosciamo come bonus psicologico e quindi in qualche modo ecco in qualche modo ho dato questo contributo e quindi ne sono molto molto orgogliosa inevitabilmente il piano di zona va discusso e quindi in questo senso lo strumento è attraverso l'analisi di tutto ciò che è stato fatto perché quello che è stato fatto non va mai rigettato va studiato analizzato corretto e modificato laddove chiaramente con le nostre idee sicuramente apporremo inevitabilmente lo psicologo deve avere un ruolo importante lo psicologo di quartiere lo psicologo di comunità che non sia più soltanto solo è soltanto una visione individuale all'approccio psicologico ma sia appunto un approccio di sistema ecco perché io prima immaginavo addirittura uno psicologo all'interno della pubblica amministrazione e quindi che si vada a lavorare su tutta la parte legata alle dinamiche alle relazioni ai conflitti la maggior parte delle incomprensioni la maggior parte dei conflitti sono generati da incapacità di comunicazione quindi credo che in quel senso sia fondamentale poi sull'aspetto del psicologo posso fare una puntata a parte perché davvero è un altro tema importantissimo Francesca hai già detto qualcosa sulla coalizione qual è il punto di forza della coalizione che sostiene Eurogalli? che siamo una coalizione civica che siamo una coalizione di persone che abbiamo deciso di metterci la faccia in prima persona senza avere persone dietro di noi ma siamo noi in prima persona che abbiamo deciso appunto di dare il nostro contributo in virtù delle nostre competenze tu oggi mi hai fatto delle domande molto specifiche sulle mie competenze perché io credo che ognuno di noi può fare veramente la differenza solo e soltanto se si occupa delle proprie competenze io credo e lo chiedo personalmente come appello al cittadino io credo che non possono esistere candidati in questa competizione che non conoscano differenza tra consiglio e giunta delibera e determina che non abbiano idea di cos'è la macchina amministrativa perché va bene la simpatia ma non è un concorso di bellezza perché altrimenti poi non ci possiamo lamentare che le amministrazioni poi non siano gestite a dovere quindi credo che quello che contraddistingue è la capacità e le competenze e le persone giuste nel posto giusto bene con questa considerazione chiudiamo grazie davvero grazie l'onorevole Francesca Troiano per questo intervento e non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona settimana e rinnovarvi l'appuntamento la settimana prossima buona serata e buona settimana a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti